è il 16 dicembre del 2022 non ci crederete guardate il timer della mia macchina sono le 11 e 34 ci sono a sera san bruno 28 gradi e mezzo poi dicono che ci si ammala fino a due giorni fa arrivavamo a toccare punte di zero gradi la notte e 7 gradi le massime di giorno